Amore, Creatore del Cielo, di tutte le cose visibili e invisibili, vedo il suo Signore, Gesù Cristo, un genere di un figlio di Dio, andato da papà, e in tutti i secoli. Dio, 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 Certo, Dio, 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 Dio. Dio, 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 D è salito al cielo, siede alla destra del Padre, in modo per dargli la gloria e pubblicare i mondi, e il suo regno non ha graffato. Credo allo Signore San Santo, che è il Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è arrivato e purificato, e ha parlato in pernessi dei profeti. Credo alla Chiesa, Santa Cattolica, professo in sua chiesa per il percorso di peccato, e aspetto alla risoluzione dei morti e la vita del mondo e del mondo. Credo Allo Signore San Santo, che è? Credo allo Signore,~? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.